Eole, benvenuti e benvenuti a RTR, Radio Tecno Resistence, in diretta dal Branca Leone a Roma, via Levanna numero 11, per questa iniziativa Meeting Roma Tecno Meeting. Si inizia la grande con sonorità elettro-storiche, track di Cybotron, traccia clear. Inizia questa iniziativa al Branca Leone, in compagnia di Jimmy al microfono per RTR, Radio Tecno Resistence, la resistenza tecnoculturale. Inizia questa iniziativa al Branca Leone a Roma, Inizia questa iniziativa al Branca Leone a Roma, Inizia questa iniziativa al Branca Leone a Roma, di incontrarci assieme presso il Branca Leone, centro sociale in via Levanna 11, con un leggerissimo ritardo di un'ora causato dal soffocante traffico di Roma, incredibile da impazzire, riprendiamoci la città, riprendiamoci la libertà, rilassiamoci, combattiamo, ascoltiamo un po' di musica Tecno. Selezione è quella di Gianmarino nel sottoscritto per RTR, Radio Tecno Resistence, disarmonica. Traccia salica di Cybertron, track ID clear, era le 1992. Clear, 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 clear all this place, clear to death, clear to death. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 . . a tutti. 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 a tutti.